Il Signore abita nelle cose ordinarie. Prima di tutto è qualcosa che deve toccare per terra. Abbiamo un piccolo momento alla mattina per pregare insieme. Brescia, nella splendida cornice di piazza Paolo VI, è il Duomo della Leonessa d'Italia a ospitare le testimonianze di alcune famiglie all'interno del congresso. A confrontarsi sul tema, la santità familiare nell'esperienza del lavoro, i coniugi Scarano e Bartelemy, moderati dai coniugi Volpini. Per noi la fede è una fede veramente incarnata, su questo ci crediamo. Quindi tutto quello che nei gesti familiari, nelle relazioni soprattutto familiari, è fatto in nome di Dio. Davanti al popolo del family hanno parlato della loro quotidianità, di come la santità non sia una meta inarrivabile, ma un atteggiamento da avere ogni giorno. Abbiamo saputo forse equilibrare quello che è stato il nostro impegno professionale con le nostre attività legate al volontariato, al nostro lavoro di consulenti familiari e coniugali e a tante altre piccole attività, cioè essere pronte ad accogliere il prossimo che arriva. Tutto il Duomo è attento ai racconti di queste coppie giunte in Lombardia dalla Francia e dall'Argentina. È molto importante per noi ogni giorno vivere le cose semplici assieme a Cristo e anche insegnare ai nostri bambini come imitare Gesù nella loro vita.